Buongiorno. Gianni Rodari, che qui vedete alle mie spalle in una foto giovanile appena arrivata alla redazione romana di Paese Sera, è stato, come tutti sanno e come tutti sappiamo, un grande scrittore per bambini e per ragazzi. A partire dal 1960, con Filastroche in cielo e in terra, 62 Favole al telefono e poi via a seguire molti altri libri, i suoi testi poetici e narrativi sono entrati non solo nella storia della letteratura per l'infanzia, quantomeno europea, ma sono entrati nelle case di tutti. Generazioni di scolari hanno letto le Filastroche più note, studiosi si sono occupati variamente di lui e gli stessi testi scolastici in qualche modo hanno utilizzato con suggerimenti, analisi, l'uso di quella grammatica della fantasia del 1973, che rappresenta forse l'esito filosofico, come vedremo, ma anche pratico didattico dell'elaborazione del pensiero e della poetica di Gianni Rodari. Ma c'è un elemento che voglio subito precisare, che a me pare importante in tutti questi interventi che avevamo iniziato anche come parco della fantasia di Omenia, di cui sono vicepresidente, una serie di interventi di aggiornamento nelle scuole, di incontri nelle biblioteche, poi sospesi per la tragedia, dramma che stiamo vivendo. Ecco, uno dei punti che portavo sempre in evidenza era l'idea che Gianni Rodari non è stato solo lo scrittore per l'infanzia e per l'adolescenza, ma è stato un grande intellettuale del Novecento. Le sue date purtroppo brevi, nasce a Omenia nel 1920 e muore a Roma nel 1980. Sessant'anni comunque di storia del pieno Novecento, sessant'anni vissuti attraverso esperienze formative anche dolorose, ma che hanno portato Rodari a vivere soprattutto attraverso la professione del giornalista, prima all'unità, poi a Paese Sera appunto, a guardare la realtà, a scrivere non solo per bambini, ma per adulti, cronache, commenti politici, riflessioni dedicate nello specifico a genitori e insegnanti. E vale la pena a questo punto fare un po' di storia, di storia personale di Gianni Rodari. Omenia. Omenia negli anni di Gianni Rodari, 1920, ma già dalla fine dell'Ottocento, è l'unica città sulle sponde del piccolo gioiello del Lago d'Orta a vocazione industriale. E altri sono tutte, a partire da Orta a località turistiche, spesso meta di turisti stranieri. Omenia invece sviluppa una industria siderurgica, ma soprattutto un'industria legata alla dimensione dei casalinghi. Non dimentichiamo che in anni lontani nascono lì la Girmi, la Bialetti, l'Alessi, ancora oggi, e poi varie piccole industrie di posaterie o altro. Nasce in questa realtà industriale Gianni Rodari. Il padre è proprietario, gestisce un piccolo forno e purtroppo però muore quando Gianni ha nove anni. Il primo trauma della sua vita, il primo trauma profondo della sua vita, lo segnerà moltissimo. L'ultima immagine che conserva di suo padre, scrive Gianni, è quella di un uomo che si scalda le spalle contro il suo forno perché è uscito sotto la pioggia per salvare un gattino da una pozzanghera. Morirà, dice Gianni, di broncopolmonite, a quei tempi, 1929, non c'era la penicidina. Gianni quindi si trasferisce con la mamma e con il fratello, minore di un anno, a Gavirate, nella zona di Varese, da cui proveniva la madre, continua un percorso scolastico e come sempre succede, come succedeva ai bambini orfani ma volenterosi disponibili alla scuola. Finisce dagli 11 ai 13 anni in seminario per gli studi ginnasiali. Uscirà dal seminario, come dice, perché non ne sopportava la disciplina, ma resterà comunque per parecchi anni, per lo meno fine ai 16 anni, 17, legato all'azione cattolica, con responsabilità anche di guida di un circolo e con collaborazioni alla rivista dell'azione cattolica della zona del Varesotto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando Gianni poi matura e matura altre convinzioni e cambia in qualche modo il suo orizzonte culturale, religioso, politico. Lo farà con un conflitto interiore molto forte. Dai 16 ai 20 anni comincerà a leggere i classici del marxismo, ovviamente clandestinamente, grazie alla compiacenza di un secario di altri amici operai che ha conosciuto nel frattempo. Studierà perché si diplomerà maestro, comincerà a insegnare e scriverà, ho cominciato a guadagnare il mio pane e quindi implicitamente a capire ancora di più gli sforzi, le fatiche della gente e quindi passerà. Ma dopo anni di effettivo il suo travaglio interiore di crisi personali transiterà negli anni della Resistenza al Partito Comunista, alla militanza nella Resistenza e alla successiva attività nella Federazione di Varese del Partito, e siamo nel primo dopoguerra, primo dopoguerra intendendo dopo la seconda guerra mondiale, e avrà incarichi sicuramente di responsabilità ma soprattutto poi sarà utilizzato come giornalista. Gianni ha una vocazione narrativa che viene fuori già dai primi raccolti dei 16 anni pubblicati sulla rivista dell'azione cattolica, racconti usciti un po' di anni fa, estremamente interessanti perché più che una dimensione religiosa mettono in evidenza una dimensione esistenziale, mettono una straordinaria capacità di racconto che a Rodari non è mai mancata. Rodari da l'unità passa poi successivamente ad altri incarichi e nasce così il Pioniere, giornale per i bambini e per i ragazzi, figli dei militanti del Partito comunista, giornale che utilizza ad esempio la forma del fumetto, ma del fumetto un po' come il Corriere dei Piccoli e non solo, giornale che sarà concorrente del Vittorioso dell'Azione Cattolica, giornale che avrà in qualche modo una vita sicuramente importante ma anche un po' travagliata perché siamo negli anni della guerra fredda, siamo negli anni dei due blocchi e quindi la contrapposizione fra il giornalino dell'azione cattolica e il giornalino di fatto riconducibile al Partito Comunista sarà spesso una polemica anche piuttosto robusta. Ma una cosa Gianni Rodari dirà sempre, scriverà sempre, la tolleranza, il rispetto delle idee degli altri e questo sarà un elemento portante anche della sua produzione per l'infanzia. Il tema della pace, ma il tema della pace non giocato come retorica, ma giocato come partecipazione. Il tema del diverso, pensate alla filastroca, di filastroca in cielo e in terra, il pelle rossa nel presepe, il diverso che porta a un arricchimento. Guardate che siamo negli anni Sessanta, nei primi anni Sessanta del secolo scorso. Questa idea di tolleranza e di partecipazione sarà anche un'idea che maturerà a livello pedagogico. Gianni Rodari farà il maestro per pochissimi anni, subito durante la guerra e però nel dopoguerra si avvicinerà al famoso movimento di cooperazione educativa. Quella MCE che avrà come rappresentanti, tanto per fare alcuni nomi eccellenti, Mario Lodi, Albino Bernardini, un movimento democratico, pedagogico, che si avvicina alle idee pedagogiche del maestro pedagogista francese Frenet, un movimento che mette al centro il bambino. Non una scuola che riversi nozioni sull'infanzia e sul bambino, ma un bambino al centro capace di interloquire e di produrre cultura a sua volta. Questa idea sarà un'idea che Rodari manterrà sempre in tutto il corso della sua vita e della sua partecipazione alle attività anche di molte scuole. Rodari andava nelle classi, anche negli anni in cui era famoso, a sperimentare le sue storie. Pensate, il famoso romanzo La torta in cielo, straordinaria invenzione di questa torta che diventa torta ma è frutto di un'esplosione sbagliata di una tonica. Questa torta in cielo nasce nella classe di una maestra dell'MCE, Maria Luisa Bigiaretti, a Roma, al quartiere popolare del Trullo. I filmati che Rai mette in onda in questo periodo, che possono essere riprese da trasmissioni televisive ma anche prima radiofoniche, vedono sempre Rodari presente ma con bambini. Cioè Rodari non rifiuta mai il contatto con l'infanzia, non cala mai dall'alto i propri testi e ragiona in termini sempre di creatività, in termini di costruzione dell'immaginario. Lo stesso gioco linguistico che Rodari fa, c'era un gatto che andava in Canada e questa è la metà, portava un cartocetto di pane col prosciutto e questo è tutto, giochi lì per lì non significativi, assume questo gioco linguistico un significato proprio nel momento in cui Rodari dichiara libero uso della parola a tutti, non perché tutti diventino poeti ma perché nessuno sia schiavo. E anche questo è un messaggio di grande apertura pedagogica, di grande apertura democratica e di utilizzazione dell'insegnamento non come trasmissione di dati ma come allargamento della partecipazione alla vita della società e dello Stato, futuri cittadini. e la parola a tutti i orari la sa giocare molto bene, indubbiamente. La sa giocare molto bene, io ho cercato di dimostrarla in questa terza edizione del mio libro, Una storia, tante storie, recentemente uscita dai Naudi Ragazzi, la sa giocare su diversi piani, su diversi tavoli, da un punto di vista del gioco linguistico, della creatività, del binomio fantastico, della parola gettata in una mente a caso che suscita onde concentriche, ma anche sul piano della costruzione tematica. Io penso alle favole al telefono. Le favole al telefono sicuramente sono uno dei testi più noti, più conosciuti di Gianni Rodari, ma penso al messaggio che queste contengono. Gianni Rodari diceva, io non penso prima al messaggio e poi scrivo la storia. Il messaggio viene fuori dal testo narrativo, sempre che questo messaggio ci sia. È la narrazione, è il racconto che vince per Rodari e non viceversa. Pensiamo a una favola al telefono come una viola al polo nord. Un giorno i ghiacci scioglieranno. Adesso purtroppo realmente li vediamo sciogliere e questo ci preoccupa abbastanza. Ma quando Rodari parla come metafora dei ghiacci scioglieranno, dirà si scioglierà il freddo. E questa viola sola che spunta al polo nord, che poi muore, perché il freddo è sola, dice un giorno qui spunteranno tante viole. L'importanza, ad esempio, del lavorare insieme. L'importanza di guardare anche gli altri. E Gianni tutto questo lo mette in evidenza con chiarezza in tante filastroche. Ad esempio quella della cicale della formica, che dice io sto dalla parte della cicala che il più bel canto non vende, regala. E anche questo, della donazione, è un atto educativo importante. Le parole non si dicono, le parole si danno. La parola educativa è importante per quello. E la parola educativa nasce dallo stare insieme, dall'ascoltare, dal capire il linguaggio dell'infanzia. E questo è un altro tema di Rodari, molto importante, quello del linguaggio dell'infanzia. C'è una bellissima novella, la canzone del cancello, pubblicata nel libro Il gioco dei quattro cantoni. E la canzone del cancello racconta, attraverso una metafora, se vogliamo, le difficoltà a capire il linguaggio dell'infanzia. Racconta di un bambino nell'anteguerra che passa su una cancellata di una villa e fa, striscia, passa il suo righello. Per lui quello è un suono meraviglioso, è una sorta di sinfonia che nasce dal suono della sua corsa con il righello. Si affaccia al balcone di questa villa un vecchio signore che dice smettila, mi dai fastidio. Due modi di percepire un suono, totalmente diversi. Passa la guerra, questo bambino di allora diventa adulto, ritorna per caso a questo luogo, rivede la cancellata, le finestre della villa sono ormai chiuse, quel vecchio signore pensa sarà morto, e in quel momento passa un altro bambino che passa al righello sulla cancellata. E questo signore, bambino di allora, si rende conto che quei suoni per lui non dicono più nulla. Non ha mantenuto quello che Rodari chiamava l'orecchia cerbo. Un giorno sul diretto Caprani-Caviterbo incontrai un signore maturo con un'orecchia cerbo. È un orecchio che serve per capire le cose che dicono i bambini e che i grandi non stanno mai a sentire. E come si vede qui, questo è un altro tema di forte impatto, ma è un tema che Rodari sa declinare con straordinaria intelligenza, ma straordinaria verve creativa, capacità stilistica in varie forme, filastroche, favole, novelle. Rodari quindi, in questa pluralità di espressioni, in qualche modo riprende le stesse caratteristiche che accreditava al suo amico genovese Emanuele Luzzati. Luzzati, grande scenografo, illustratorio, illustrò diversi testi di Rodari, lavorò con Gianni alla Spezia, a questa bellissima esperienza di teatro che coinvolse tutta la città. E Gianni Rodari, nel suo ultimo scritto, entro in clinica e morì per le conseguenze di un intervento chirurgico di lì a poco, nel suo ultimo scritto, che è una sorta di prefazione al catalogo di una mostra di Luzzati, dice Io ho sempre invidiato a Lele, cordialmente invidiato a Lele, il fatto che lui si muovesse in tanti modi diversi, attraverso la ceramica, attraverso l'illustrazione, attraverso il cartone animato, eccetera. Ed è come se uno, dice Rodari, non avesse una sola lingua materna, ma due, tre, quattro. Beh, io credo che questa caratteristica che Rodari accredita a Luzzati sia anche la caratteristica di Rodari maestro plurilingue, maestro capace di guardare oltre, di pensare che le cose davvero portano scritto più là, e maestro soprattutto a noi oggi che viviamo in momenti drammatici, capace di dire se non vi piace il finale fatene voi un altro o anche due o anche tredici. L'importante è mai lasciarsi spaventare dalla parola fine.